Situazione passibile di risoluzione della trasparenza e diciamo accantoniamo dei soldi per fare questo, non rimandiamo a cultura memoria la risoluzione dei problemi ma già decidiamo di una mera ricognizione di sistemazione, le tasse, la riduzione dei servizi, noi garantiamo i servizi, espandiamo in alcune situazioni i servizi però manteniamo anche un bilancio assolutamente sano, trasparente, un bilancio che ci consente di programmare con più serenità anche per il futuro, quindi credo che attualmente non prevista la raccolta differenziata. La tele che ha però riguardo il modo di lavorare. Andiamo a recuperare anche oneri di canoni, di locazioni che erano... i tagli sull'informazione, sulla cultura, sul nuovo... Possiamo di mettere mano alla villa comunale che risulta diciamo depotenziata... Anche se in una manovra di fine anno danno un segnale, questo è il dato importante.